Abbiamo qui un panchinaro d'eccezione oggi, il signor Ciancio del Lago, bomber non ancora realizzativo quest'anno per lo Sporting, ma speriamo in bene nel futuro. Cosa dice Del Lago? Soddisfatto della fusione fra le due squadre? Sì, soddisfatto, anche perché eravamo anche in pochi, quindi ne passava appena anche a livello di numero. Era necessario, per qualcuno c'è meno spazio quest'anno, ma ci sarà tempo e modo per tutti. Speriamo in bene, perché qua è voglia di giocare scalpita dentro e bene, quindi bisogna fare qualcosa. Piccola domanda su una cosa che si è vista nel filmato di sabato scorso. Durante la partita lei giochichiava pallone con spalle al campo, quindi a lei non interessava assolutamente niente la partita, vero? No, no, interessa sempre la partita. D'altra parte il freddo è quello che è. Siamo un bastardo. Il freddo è quello che è, quindi bisogna anche cercare di scaldarsi in qualche maniera. La sua nuova fidanzata, l'ennesima fidanzata del dottor Ciancio. Sara, come sta? Insomma, l'ennesima, ne ho avute poche, speriamo che sia in pace con se stessa. Dal punto di vista sessuale tutto bene? Dal punto di vista sessuale speriamo che vada sempre in meglio. Ricansiamo il bomber e speriamo che oggi ci regali qualche bel gol. Ecco, speriamo, ma anche di entrare qualche 2-3 minuti. In bocca al lupo. Ok, grazie.